Allora, ammetto che ancora non mi chiaro come risolvere questo problema. Quindi andrò qua dove vibro. No. Qui? No. No. Mini. Tipo io? 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 Ok. Tipo file. Credo un barriore ma penso sia di nuovo la sedia. devo le pie come cazzo uscire da qua però non posso rimanere chiuso per molto mi sono dimenticato di alzarmi perchè la seglia si sta ripropendo giusto un filo probabilmente mi abbasserò nel corso dell'arbitrata allora sto cercando un metro dopo uscire un metro dopo uscire ok no 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 ti prego vai qui no poi non aiuta la torcia così dopo un'eternità devo semplicemente seguire le vibrazioni della torcia quindi andiamo l'ho visto da nido perchè non fammi vedere bene da dove parte ok quindi no ok 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 ti prego ti prego sì un incubo per uscirci cazzo ok e ora ci sono delle porte bene portavolo scala ma merda a proprio così bada merda e vabbè si ma sei in mezzo ai coglioni ok questo no si vabbè altro ok tu non di la quindi di qua non c'è un cazzo perché ho la luce accesa soprattutto datemi un attimo ok dove siamo che cazzo non capisco se sia un bug grafico del bug dell'emulatore oppure no questa stanza è grande il doppio che cosa altra cosa stai pubblicando sky sport dove va in moto gp mi interessa un poco che ansia in caribbia via guarda 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 il volto c'è proprio la preoccupazione fai a vedere che c'è un altro buco è tutto nero è tutto nero no no il tuo buco vuol dire questi semifini di video bastardo adesso si ha altissimo il volume alternato erano video film del video alternati a fasi del dell'incidente oh no ha diventato invisibile ha diventato invisibile ok no 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 ok non debba andare di qua ok no eccolo eccolo ah inizio che già mi seguono ok 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 ah bene ah bene fottiti prima o poi ok che cazzo sei eh ho capito ok ok questa ok ok poi non quella questa poi questa ok ok poi non questa invece si invece io non ho capito se se è se è la strada giusta non lo so eh volevo provare questa dritta non è che avessi molte opzioni ok io seguo il ghiaccio io seguo il ghiaccio io seguo il ghiaccio ok ok se il ghiaccio è su più di una porta no così non sembra essere eh oh credo che abbia effettivamente portato a qualcosa tutto questo per essere caduti eh dopo che la poliziotta ci ha cercato la stanza di Cheryl Cheryl nostra figlia insomma Ed la chiamiamo Ed Cheryl questo è il tuo spazio ma non sei dentro è stato anche buon uomo è stato anche buon uomo questa cosa buon uomo è stato molto stai stai in questo marito ha lavorato molto meglio quando non vivi di tanto Abbiamo delle parole, come se l'anno scorso l'anno scorso, per ricordare di quanto la cascata è pronto. Pensi che mi sembrava scendicato? Divorce ha fatto questo a te? Come on, pensi che la cascata può durare davanti? Deve una coppola resta insieme per i bambini? Pensi che è una buona idea di cascarti? No. Vuoi rispondere come Barney Stinson, però no? Buon 18 anni! Con quale criterio? Non ho mai scoperto, sono situa nera di come si scrive la vita e secondo te io posso vincere. No, non ho letto. Aspetta. Devo formare... Coppie... Non ho letto. Non mi è stato dire stonzate. Allora... Video, video, le metterei per lo sfondo. No, allora... Lasciamo le cose per bene. Dido, venimi incontro. Crisi di coppia. Va bene. Fammi vedere bene. Una testa di cazzo. Ok, devo dividere in sei coppie sposate. Quindi... Allora... No, 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 non ho finito. Allora... Questa signora... Va con lui. Quest'uomo... Questa signora... Va con lui. Ora si. Non c'è? Questa signora... All'inizio. Non è che lei è ancora vestita così? Ho delle domande Quindi sei Harry? John Beh, non mi preoccupi Sto sicuro che voi due hai molte cose da fare John, non sei sbagliato Segui davvero ragazzi Non mi preoccupi Non mi preoccupi Non mi preoccupi Ahahahahah Non è il problema di Harry Non è il problema di Harry Sto dicendo questo Siamo Voglio fare cose chiaramente Voglio fare cose giusto Che ti dice? Questa riunione, questo weekend Voglio venire a vedere te per parlare cose Parlare? Siamo assistendo a qualcosa di terribile? Se non ora quando? Onde? Christ Michelle Ho cercato di fare questo per mesi Ma non vuoi sentire Ora abbiamo una notizia Talvez tu possa ascoltare Ho Sono proprio stai Non stai pensi Non stai pensi Non stai pensi Non stai pensi Questa è una cosa Se ancora ti amo Non può essere È Non mi piace 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 A me sembra un passaggio A me sembra Buon uomo Che cazzo vuol dire? April 2 e zoom Fammi vedere questa bella macchia Poesia geometrica He took the keys Lighthouse code I piccioncini dove sono andati? Va bene Noi andiamo di qua Ci interessa relativamente No Vieni qua No Vieni qua Ok Dalia Scusa per riserva Mentre mi arrabbiati Lo so Ho un po' salto di nuovo No Però 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 No Figlia di puttana Eeeeee Siamo partita Quanti Sì Non è che ci è salvata già rapido nel Nell'emunatore No Gli altri posti per il pallone loro Va bene Chi è al più in alto di Baella Fa un po' strano Anche a me che sono giuventino Che probabilmente vedo la mia scuola giocare in Serie B l'anno prossimo Però E non per i pochi punti in classifica Tu cosa sei? Ma che schifo Porca puttana Che schifo No Sharon Non sposarti con dreaming vai dei disegni quanto ci metterà sta zona diventare incubo meno zero ed ecco c'ho assalenti il fairo è quello lago Toluca ecco c'è l'escrusione qui Qui. Adesso ho trovato tranquilla la città. Che vuoi fare? Va bene. Vieni qua. Hai miso. Teletrasporto, signorina. Sì. Hai bisogno di un pò per crossare il luogo. Ci sono molto più sul jettero dietro del parco di amici. Andate all'alli da l'arrivo, potete vedere. Io avevo venuto con John. Mi piacerebbe che sia più divertente come mi ricordo. Hai sicuro che vuoi andare, Harry? È tutto quello che ho ho. Alcune qualcosa si sente male. Questa è lì. Lo saprei questa volta. Ho avuto le mie risposte. Hai potrebbe non piacere. Quelli che pubbbero. Hai, c'era. Frecola. Hai c'era. Ma c'era. Hai. È quello che si tratta. Hai c'era. Sì. Segui. Si. Hai. Ho. Ho. Cazzo vuol dire? Cosa vuol dire tutto questo? Questo mi sembra più un teschio, devo essere onesto Beh, oddio, qualcosina mi ha ricordato Rimaniamo lì Questa è una coccinella Mi ha ricordato Ghost Rider Questo lo mettiamo qui Questo effettivamente è che cosa cazzo mi ha ricordato Vai lì Ho un problema probabilmente, non lo so Sì Buongiorno Ovviamente il partner constante del sexo l'altra parte della stessa città è la morte la morte è la morte è una scuola nel voce la grande perdita del self il tigre in spazio un pezzo per l'annihilazione per denunciare la morte è per denunciare la morte in questo modo pensi a una Vergine che vuole morire non ha un conto senso e ma ora la gente che si sapeva di sufficiente non necessita di analisi io non lo faccio proprio non posso aiutare amico non lo faccio proprio sono cintura nera di come si scrive la vita quinto danni e probabilmente l'ho pure già fatta sta battuta e probabilmente era cambiato pure male Allora Allora al veicolo Avevo detto di andare no? Tu Luca Lake E va bene Di solito sono attaccato al molo Quindi qua E' d'altro Non l'ho nemmeno visto a stappare lungo i bordi E' una parca di Saintee 3 Sarebbe meraviglioso se lo fosse Sarebbe meraviglioso Ok E' come tutta sta neve non lo riconosco ben Davvero devo mettermi nel Nel tunnel dell'amore Va bene lo accetto